Nonostante l'azione delle ruspe che dal 2016 demoliscono gli abusi edilizie ed in presenza di multe salate, il fenomeno del cemento selvaggio a Licata non si ferma. Il Dipartimento Territorio ed Ambiente del Comune, che è ancora diretto dall'ingegnere Vincenzo Ortega, ha adottato due nuove misure. In un caso ha firmato una nuova ordinanza di demolizione, la prima del mese di novembre dopo il boom di settembre ed ottobre, in totale 22 ordini di abbattimento nei confronti di chi avrebbe costruito abusivamente o in difformità rispetto alla concessione edilizia ottenuta. Ai titolari dello stabile in questione sono stati concessi 90 giorni di tempo per demolire l'abuso. Il secondo provvedimento è una maxi multa, ben 20.000 euro elevata nei confronti di un licatese che non avrebbe ottemperato entro i 90 giorni di tempo previsti dalla legge l'ingiunzione di demolizione. Sono 13 le persone denunciate nel mese di ottobre alla procura della Repubblica di Agrigento per avere violato le norme vigenti in materia edilizia. Praticamente è un record. Accertamenti sono stati disposti per quattro fabbricati. A settembre erano state firmate ben nove ordinanze di demolizione in 30 giorni. Il pugno duro della squadra anti-abusivismo della Polizia Municipale sembrava avere scoraggiato quei cittadini che nonostante la lotta serrata al cemento selvaggio culminata con l'azione delle ruspe che stanno demolendo i villini realizzati senza licenza edilizia continuano a costruire manufatti in assenza di autorizzazione o indiformità rispetto a quanto autorizzato dal competente ufficio tecnico. Oltre al controllo del territorio molto vasto e articolato sono in azione le ruspe del consorzio di imprese compatte di Roma che stanno abbattendo i villini abusivi costruiti nella fascia costiera a meno di 150 metri dalla Battigia dove vigge il divieto più assoluto di edificare. Dal 2016 ad oggi tra demolizioni autonome e quelle effettuate dalla ditta patriarca di Commiso prima, la costruendo di Messina dopo e la Compat adesso sono in tutto 170 i villini rassi al suolo. L'elenco conta in tutto 219 immobili da demolire e proprio in questi giorni l'azione demolitoria non si è fermata. L'ufficio tecnico ha fatto notificare una decina di ingiunzioni alla demolizione per villini costruiti entro i 150 metri dalla Battigia, molti dei quali si trovano nella spiaggia della Rocca che dovranno essere eseguite nei prossimi giorni.